Impossibile che sono 4.9 Impossibile addirittura Mi piace quanto Coso Decotto? No, Sai il Podergeist Non Sai il Podergeist Cazzo dico Vabbè comunque Era un max film della colonna Non l'avevo mai verificato Alex Facciamo un livello meme Di Cosmic Dreamer Di Vibrin No Cioè ovvero prendiamo Cosmic Dreamer E un livello meme Già che letteralmente Mi hai chiesto di fare un livello è un problema Allora Io ho dato io l'idea L'idea Che schifo ma è Ma è proprio una merda del livello Non poteva rimanere tipo unrated Fatto 39 Fatto 39 Ok No Ma è proprio